Eccessi e bagordi per festeggiare i 35 anni di Kate Moss. L'anno scorso la top model aveva promesso di celebrare il suo 34esimo compleanno con una festa maratona di 34 ore, ma allo scadere della diciottesima ora lei e i suoi ospiti avevano ceduto le armi. L'esperienza avrebbe dovuto insegnarle qualcosa, ma così non è stato e a un anno di distanza la regina delle passerelle, che ha girato l'angolo dei 35 venerdì, festeggia il compleanno con 4 giorni di bagordi ed eccessi. Kate ha speso migliaia di sterline nell'organizzazione del suo compleanno, ha rivelato una fonte al tabloid inglese Daily Mail. È arrivata al Dorchester Hotel, uno dei più lussuosi alberghi di Londra, insieme con la madre e l'attuale fidanzato, il rocker Jamie Hines. La sua snella figura, avvolta in un fluttuante abito nero scivolato con tanto di strascico, è stata fotografata sulla porta della lussuosa Magione. Tra gli ospiti di Kate Moss, il proprietario della catena d'abbigliamento Top Shop, Sir Philip Green, Kelly Osborne, l'ereditiera Davinia Taylor, amica personale della Moss, sfortunata protagonista di un incidente a fine festa. Mentre entrava in macchina sorretta da due accompagnatori, le ha scivolato il bustino, lasciando intravedere quel che di solito va celato. La sera precedente la top model aveva festeggiato con un tettatette insieme con il fidanzato e il calciatore del Potsmoof, Peter Crouch e la sua ragazza.